Se volete che dopo il video di Mortis che state vedendo adesso, volete vedere quello di Dynamite Rank 35, bene, lasciate 4000 like. Ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ovviamente è un video inerente a un Brawler Rank 35 e anche uno dei più difficili, proprio Mortis. Perché ragazzi decido di portarvi questo video? Per ripagarvi del supporto che mi avete dato negli scorsi video. Di fatto abbiamo fatto 10.000 visual nel video di Ambra Rank 35 e io come vi ho detto ragazzi, se mi mostrate il supporto, i video arrivano. I video arrivano, soprattutto quelli dei Rank 35, avendone fatti tanti, e arrivano tutti sul canale. Dipende solo da voi, ripeto, e dal vostro supporto. Quindi prima di iniziare ragazzi, iscrivetevi, lasciate like, che è fondamentale per il canale. Arriviamo ai benedetti 30.000 iscritti e soprattutto ragazzi, se volete che dopo il video di Mortis che state vedendo adesso, volete vedere quello di Dynamike Rank 35? Bene. Lasciamo, lasciate, 4.000 like, proprio come vi chiesi per Shelly. Detto ciò, iniziamo con le partite. Allora, premessa, Mortis è stato un Brawler che mi è piaciuto utilizzare, quindi è stato alla fine un push non sudato, ma un push anzi divertente. L'ho fatto con un mio caro amico, Aquaria, e con un portoghese, Mutinho, che ci ha aiutato tutta la notte. Allora, prima partita siamo Tara, Bo, Mortis contro, appunto, Mr. P, ma credo che ve li abbiate visti, scusate, il volume è abbastanza altino. Ok. Contro Mr. P, Tara, Carl. Allora, come potete notare, vado a destra. Per quale motivo vado a destra? Non c'è un vero e proprio motivo. Semplicemente, Mutinho con Tara si trova meglio a sinistra, quindi io chiaramente vado a destra. Il problema è che ho un count nel mio lane, quindi cerchiamo di gestircelo al meglio, perché se anche dovessi pusharlo, chiaramente gli regalerei delle ulti. E regalare delle ulti a Tara non è bello. Quindi cosa faccio? Scappo da sinistra, pusho il mid, appunto, avversario, che è quello che ha le gemme, e così ho creato decisamente uno spazio molto grande nella mia squadra, ma soprattutto costretto la Tara nemica a ritornare indietro. Nonostante ciò, però, il Carl, quello ovviamente avversario, ha fatto un buonissimo lavoro, perché ha killato Mutinho e ha mantenuto il controllo alla sua squadra. Detto ciò, quindi, switchiamo lane, io non posso più andare da Tara e vado da Carl, ma loro di conseguenza switchano, quindi io adesso mi ritroverò un'altra Tara in lane. Ovviamente non me l'aspettavo, infatti ho lasciato due volte per, alla fine, ricaricare i miei pipistrelli, ma io mi aspettavo un Carl, non una Tara. Ora che so che c'è una Tara, quindi mi gestirò tutto con molta più calma, so anche che ha il grab, quindi vedete che gioco con molta più cautela, me la mantengo molto a più distanza. Per fortuna questa Tara è abbastanza scarsa, spreca la ulti, e guardate qua come io utilizzo i pipistrelli stupendi che mi permettono di dare sia Carl che Mr. P, e ovviamente di recuperare le gemme per la squadra. Siamo 12-0, quindi comunque abbiamo ripreso il controllo e abbiamo ripreso le gemme, perciò basta semplicemente non morire per portarsi la prima partita a casa, che è proprio quello che faremo inoltre Mutinho alla ulti, quindi è una sicurezza in più. Proseguiamo con la seconda partita, qua come vedete nella home avevamo morti Srank 35, bellissimo, infatti adesso non è più così, ce l'abbiamo intorno alle 900-800, però è davvero molto bello avere un brawler, cioè è una grande soddisfazione portarlo a 1250. E Ablora, abbiamo in questo caso contro un boh, un genio e una Tara, comp non troppo buona per il fatto che ci sono due mid, sarebbe stato meglio un genio, Tara e poi qualcos'altro a posto di boh. Ma comunque io di nuovo, inizialmente vado a destra e mi ritrovo una Tara. Ecco, in questo caso qua perché me la sono riuscita a fare? Perché lei ha sprecato due hit, e sapete che Tara ricarica molto lentamente, bene, ne ha sprecati due sul mid, su Aquaria. In quel caso lì quindi io sono libero di andarle addosso perché so che ha solo una ricarica, e con una ricarica mi può levare al massimo 1938, non mi può one-shotare come invece farebbe con tre hit. Detto ciò, avete visto qua come mi sono fatto una kill assurda su genio, nonostante avessi poca vita, quindi è stata molto molto buona, e ora chiaramente arriva lo switch. Quindi avete visto come effettivamente io Moutinho ce la gestissimo. All'inizio io posso andare da Tara perché Tara non ha il grab, e soprattutto io non vado su Tara all'inizio, cioè vado nel suo lane, ma pusho il mid. Una volta che però Tara inizia a mantenere il controllo del lane, allora lì si switcha perché Moutinho una Tara se la può gestire, io con Mortis no. Avete visto qua come abbiamo fatto una combo che vi rimostro di ulti di Tara e pipistrelli di Mortis, ovviamente è una ulti letale, cioè una combo letale perché 1100 del colpo di Tara, 1260 dei pipistrelli di Mortis, ragazzi, gli avversari non hanno più nulla da fare. Abbiamo contro Pam, Tara, Sandy. Anche qui la comp non è molto buona per il fatto del mid, perché Pam e mid non è tanto buona, però Sandy, Tara e il lane sono davvero mostruosi. Detto ciò, di nuovo vado a destra per il solito motivo perché è uno spot utile per scappare e andare verso il mid avversario, mentre Tara ovviamente è molto fastidiosa. Qua Moutinho muore da Sandy, io come vedete riapplico le stesse cose, vado sul mid e lo killo anche e poi switcho. Dopo posso switchare perché io ho liberato il mid, ho creato lo spazio per Beck, proseguiamo sempre il volume a palla, perfetto perché il mio iPad è buggato. Detto ciò, come avete visto, no in realtà non ho visto cosa ho fatto. Allora, vediamo qua come Sandy sia mid in teoria la killo perché vi faccio una doppia mi sa. Eh sì, ci facciamo una doppia perché Beck utilizza delle mine assurde, quindi GG per Beck, io vado sulla Pam, lui finisce Sandy, quindi anche buono il teamwork. Detto ciò, loro continuano a spawnare e a praticamente killarsi, buonissima quella di Tara, io vado in mezzo, vado in in e li shotto tutti perché mi piace, ragazzi morti, se è davvero divertente da giocare. E la Tara sta nata ancora una volta dalle mine che per di più non erano state in gadget, cioè non erano state attivate dal gadget di Bo. E niente, raga, predominio totale, io mi sono rifatto una pamba sinistra, non so se l'avete notato, nel caso tornate indietro di 10 secondi. Qua di nuovo vado su Tara per farvi vedere che comunque morti si può farsi Tara, ma se la può fare, se la Tara prima di tutto è scarsa, ma soprattutto se si ricorda bene quante hit Tara ha sprecato e quante non ne ha sprecate. Detto ciò, nulla, ragazzi, qua vengo grabbato, ma non è che mi cambia molto perché non ho gemme, e questa è un'altra win, un'altra win, bella, bella, portata a casa. Vi mostro giù sulla schermata per farvi vedere quante coppe stavo, 1231. Siamo contro poco Tara, Bo, anche qui la comp è per niente buona, Bo è ottimo, chiaramente, ma un poco è inutile, non ci vuole in quella comp. Detto ciò, di nuovo vado a destra, imperterrito, classico movimento, ragazzi, ormai è proprio routine e qua, ovviamente, guardate come si raggruppano poco Bo e vedete come io utilizzo chiaramente dei pipistrelli, io vi ricordo i pipistrelli con mortis, ragazzi. Utilizzateli mirando, vanno utilizzati mirando. Non usateli chiaramente di auto aim perché non beccherete gli avversari, non li beccate. Quindi cercate sempre di beccare più di un avversario con i vostri pipistrelli. Detto ciò, avete visto come stiamo predominando gli avversari, li stiamo demolendo, li stiamo asfaltando. Io mi diverto chiaramente ad andare sul poco Bo perché mi posso infilare su di loro. Hittarli, continuare a hittarli. Vedete di nuovo anche qua utilizzo i pipistrelli che non beccano poco ma beccano Bo e il suo totem. Quindi comunque 1260 per 2 me li sono ricaricati. Guardate anche qua di nuovo doppio, triplo pipistrello. Cosa significa doppio, triplo pipistrello? Che per due volte con i pipistrelli ho ottenuto tutti e tre avversari. Ve lo rimostro. Guardate ragazzi come vado sulla tara che ha sprecato una hit. Due hit. Quindi posso avanzare più i pipistrelli, posso avanzare più i pipistrelli. E raga, qua ho fatto il devasto. Qua davvero ho fatto il devasto. Io vi ricordo che con un pipistrello che becca a tre avversari è automaticamente ricaricato un altro pipistrello. Quindi raga, mostruoso, mostruoso. Guardate quanto è bello giocare a Mortis, quanto mi diverto. E soprattutto quanto lo gioco bene. Non voglio vantarmi ma secondo me a Mortis io lo gioco davvero tanto bene. Ok, siamo contro. Ecco, vedete? Bo, Mr. Pitara. Allora, Mr. P può essere usato in lane, no? Quindi sì, questa è una comp molto buona. Non una delle migliori ma buona. Nonostante ciò, però Mr. P lo giocano mid e ball lane. Può anche andare bene, però boh, non lo so. Guardate qua, chiaramente se utilizzo il gadget... A proposito, non ho parlato di gadget, ragazzi. Io utilizzo il gadget delle ricariche. Perché è quello che secondo me è più schillato, ma è quello che ha anche più utilità nel gioco di Mortis. Perché se utilizzate l'altro, quello del... Che poi in realtà non è gadget. Sì, è gadget, è gadget. Se utilizzate quello del danno, che leva 1300, beh, ok, potete magari shottare gli avversari che lasciate one shot. Però, guardate quelle ricariche di colpi, quanto posso dashare? Quanto posso pushare gli avversari? Non lo so, io sinceramente preferisco appunto quello delle ricariche. Lo so che è più schillato, lo so che molti di voi magari non si trovano perché è difficile da giocare. Però, ragazzi, ci fate l'abitudine, davvero fate i buchi. Fate i buchi a tutti gli avversari e tutti i team che incontrate. Detto ciò, per fortuna i miei push, ragazzi, sono fastidiosissimi al team avversario perché veramente li sto pushando e li sto facendo fuori. Qua cosa faccio? Decido di prendere una gemma e cercare di farmi grabbare da Tara. Ma Tara non utilizza il grab, non lo vuole sprecare, quindi GG per lei. Dobbiamo perciò, prima di prendere l'ultima gemma, cercare di avanzare e farglielo sprecare. Chiaramente io sono Mortis, quindi posso pushare sulla gemma. Posso anche scappare da grab. Potevo. Potevo farmi un dacino migliore, non l'ho fatto. Ma comunque rimango vivo, no, ok, do le gemma back che è decisamente meglio perché ora io spawno e posso andarmi a divertire sul mister più avversario. Perché infatti vedete come gli vado in bocca, per scherzo, e lo killo istantaneamente. Non ve lo sto neanche a dire che ho fatto star play anche in questa partita, raga, ma avete visto quanti pipistrelli ho tirato. Ciò, chiaramente, apriamo Brawl. Semplicemente vi mostro il Mortis, eccolo qua, rank 35, con le sue chiarissime skin. Ovviamente l'ho pushato con questa skin, ma anche con quella del cappello, perché mi piace questa qua. Insomma, con un po' tutte le skin. Oggi nello shop per di più abbiamo Mortis argentato, ma non credo che lo prenderò. Devo aspettare un attimo di accumulare un po' più di oro. E niente ragazzi, questo è Mortis. Io vi chiedo per questo video, mi raccomando, 4000 like per avere il video di Dynamike. E niente, supportate, iscrivetevi, dimostratemi che questo video vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.